ah che romantico ti inquadrano al palazzetto e ne approfitti sì però ne approfitti per allacciarti le stringhe cosa avevate capito che le chiedesse di sposarlo ma no c'è tempo come sarà finita così probabilmente però è finita male ancora una volta per lei niente è Saturno l'unica è simulare felicità simulare beh abbiamo il campione del mondo prova a prenderla non la prende vabbè mi lancio continuate a taggarmi qui sotto video tipo questi cari miei come il carving più lungo del pianeta ma non è una curva però questa vale come curva ma è spiaggiato è sdraiato e per 100 metri rimane lì poi si rialza boh vale non lo so non lo so vale questo piuttosto per stare sulla neve ma cosa fa arriva a 200 all'ora vola in piega torna giù come se niente fosse un fenomeno un fenomeno a proposito qui cosa succede la va a prendere a tre metri beh challenge lanciata a cristiano ronaldo almeno come minimo dopodiché arriva il suo amico e già che c'è ci regala un bel mulino senza fisico a tutti e due senza fisico attenzione qui cosa ha fatto di preciso proviamo a rivedere provate a rivedere non lo so non mi è chiarissimo non si vede bene non si vede bene o qui si invece tutto chiaro un po di trick durante i blackout basta un abbigliamento catarin frangente chi non ce l'ha occhialoni compresi ed è fatta altri sport strani ne abbiamo ne abbiamo iniziamo dal non golf nel senso che devi evitare di toccare la pallina passiamo alle flessioni impossibili sembra difficile sembra difficile ma è difficile questo è impossibile ma lui ce la fa guidare con la forza del pensiero la bici in un front flip avete capiglie deboli bene c'è questo semplice esercizio per voi lanciarsi una trentina di chili in equilibrio muscoli in tensione rischio di spaccarsi tutto insomma vedete voi se riuscite a evitare l'infortunio carriera magari poi riuscite a ballare sul pallone come lui rivediamo ma come lo tengono su con dei figli evidentemente oppure vi viene una finta così che il difensore si sta ancora chiedendo chi è dov'è perché cos'è crede che questo sia uno slomo no è in play normale ed è questa la bravura capaci tutti a tenerlo sul dito se gira veloce ultima cosa non siete bravi a stopparla fatelo fare alla scarpa la togliete tac fatto ciao